ti truccherò con quello che mi capita a tiro sottomano e ti ne prende poco ti mostrerò un ombretto un po' particolare che ha tre colori passare la crema la crema al fondotinta adesso passiamo al pezzo forte il mascara ciao ciao ti sei mai fatta truccare in modalità random? no non sai di che cosa sto parlando? lo vuoi scoprire qui adesso? oggi per te aprirò una sessione di make up random ASMR cosa voglio dire? ti truccherò con quello che mi capita a tiro sottomano quindi sarà una sessione di make up interessante rilassante e ovviamente rilassante tu rilassati non ti preoccupare troppo di quello che accade perché tanto il risultato come sempre già lo sai sarà perfetto e allora che dire iniziamo vado subito a passare la crema la crema sul viso perché vedo che ha la pelle un po' secca da quanto non la idrati da un po' bisogna idratarla spesso almeno mattina almeno ogni mattina ed ogni sera prima di andare a dormire va bene va bene va bene crema 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 o tranquilla non è acqua è una crema non è però Ok ok perfetto poi voglio passare al fondotinta si si proprio si a questo fondotinta ok sarà adattissimo il colore della tua pelle vedrai avrai la tonalità giusta di fondo sul viso con questo fondotinta magico non ti devi preoccupare ok 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 ma si si no ecco qui l'ho aggiustato la vita bene perfetto vi si aspetta che c'è un altro po' ancora da coprire giusto qualche piccola imperfezione bene adesso se tu me lo concedi voglio passare all'ombretto e ti mostrerò un ombretto un po' particolare che ha tre colori rosa, fucsia, verde quindi dovrai solo scegliere il colore esatto si sarà solo uno di questi tre che applicherò quale preferisci? quale preferisci? rosa? ok 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 questo rosa lì l'è perfetto questo rosa lì l'è perfetto perfetto senti direi di andare a sfumare la codina con questo fucsia un po' più intenso che ne dici? ok ok visto che bel risultato ma adesso passiamo adesso passiamo al pezzo forte il mascara adesso applicherò questo mascara su di te e non passiamo al pezzo e non app 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 ok Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Sono veramente molto contenta del risultato. Sono veramente molto contenta del risultato adesso. Adesso una bella dose di lip gloss rosa trasparente. Questa torta nasconde il rossetto. E io adesso attingo. E vado a metterti il rossetto, ok? Te l'avevo detto che qui era tutto magico. Tornerai di nuovo per farti fare un'altra seduta di make-up random. Ok, allora ti aspetterò. Bene, 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 bene. Poi, 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 passiamo. Passiamo al blush. Al blush. No, non temere, non verrà così scuro. È solo l'effetto della rosa. Anche il rossetto non è così rosa come lo vedi. E guardalo, è proprio trasparente. E un po' di blush. E un po' di blush. E di, ne prende poco. Ok, dai, fermo, fermo. Dall'altro lato. Allora, io direi che il risultato è veramente perfetto. Che questo mio esperimento con te è stato veramente top. Spero che il risultato, oltre che rilassante, sia stato gradevole dal punto di vista estetico. Per il risultato del make-up anche aperto. Se ti va, ti aspetto ancora un'altra volta qui. Quando vorrai, ok? Ciao, tesoro mio. Alla prossima.